CARM CARM A Firenze, in via del Romito, 15A Rosso. Da oltre 30 anni nel campo della manutenzione e riparazione di apparecchi a gas, Centro Assistenza Autorizzata per Caldai e Scaldabagni Helm Leblanc, del gruppo Bosch, fornisce assistenza assicurando la soddisfazione della clientela con un servizio affidabile e di qualità. Offre convenienti forme di abbonamento per le manutenzioni obbligatorie. Per informazioni, visitate il sito www.karmasrl.it